Ospite di Atreo Vivevo nella casa di Zio Atreo, il fratello di mio padre. Ero ospite da lui, in quanto, essendo ancora troppo fanciullo, non avevo potuto far parte della delegazione ufficiale, che andava a Ilio. Partendo, mio padre mi aveva detto «Ragazzo, ricordati che sei figlio di Tieste, comportati da uomo e non far arrabbiare Zio Atreo». Dal canto mio gli avevo chiesto perché, se si voleva che mi comportassi da uomo, mi si lasciava a casa come una fanciulla. Mio padre era scoppiato in un riso sonoro e scompigliatomi i capelli, mi aveva ricordato che il viaggio fino a Troia era lungo e pericoloso e, nel caso fosse successo qualcosa a lui e ai miei fratelli, io avrei dovuto assumere il comando della casa. «Vedi bene», aveva concluso mio padre, «che almeno un uomo della famiglia deve rimanere in patria». Passavano i mesi e la spedizione di Tieste diventava sempre più complicata, una missione diplomatica non bastava, avevamo bisogno di alleati per convincere il re di Ilio a pagarci il tributo. Intanto il mio corpo cambiava e anche quello dei miei cugini, dei qualche anno più grandi di me, specie quello di Agamennone, che era diventato un uomo vigoroso e possente. Il suo era il classico fisico dell'eroe. Da quando i miei fratelli erano partiti, il legame con Agamennone e Menelao si era fatto più stretto, giocavo con loro, lottavo prima con uno e poi con l'altro, andavamo a cacciare insieme. Fu proprio mentre seguivamo una preda che io e Agamennone capimmo di essere fatti l'uno per l'altro. Ce lo rivelò uno sguardo, un fissarsi negli occhi per qualche secondo di troppo e fu subito chiaro che il nostro destino era quello di diventare amanti. E infatti il destino si srotolò sotto le nostre lenzuola, una storia d'amore intensa, travolgente, quella che ci vide ai protagonisti. Era raro che ci separassimo e quando ciò capitava non era dovuto alla nostra volontà. Agamennone con me era dolce e possessivo al tempo stesso. Quando facevamo l'amore mi prendeva con decisione, ma sentivo che nutriva per me un grande rispetto. Dopo che mi aveva posseduto mi stringevo a lui e poggiavo la testa sui suoi pettorali. Lui mi accarezzava amorosamente la nuca e quando gli tornava desiderio di me mi baciava appassionatamente sulla bocca e cominciava a giocare con le mie natiche. Ero fiero di essere il suo ragazzino. Il nostro amore era però sgradito a Menelao, che se ne sentiva escluso. Non è giusto, si doleva Menelao, non è giusto che mi trattino come un estraneo in questo modo. Se ne stanno da soli per delle ore e io non so cosa fare. Non posso certo amoreggiare con uno stagliere, sono figlio di re. Mi avete tradito, ci rimproverava a volte. Eravamo amici ma ora siamo nemici. Agamennone tentava di farlo ragionare e gli ricordava il vincolo di sangue che ci univa. Tutto però era inutile. Menelao non voleva sentire ragioni. Per lui contava solo il fatto di avere perso i suoi compagni di giochi, i suoi due amici. «C'è un tempo per giocare e un tempo per fare l'amore», avevo detto un giorno durante una delle lunghe discussioni in cui ci costringeva. «Attento», mi avevo avvertito, «c'è anche il tempo della guerra e della vendetta». Non avevo tenuto in alcun conto l'affertimento di Menelao e ora so di aver fatto un grosso errore. Ero talmente felice per la mia relazione con Agamennone da sentirmi invulnerabile. Niente e nessuno avrebbe potuto farmi del male se Agamennone fosse restato al mio fianco. Noi due, ormai ne ero convinto, saremo diventati una coppia degna del mito, indivisibili e invincibili. A scuola i fanciulli avrebbero studiato le nostre imprese, sognando di diventare come noi.